La popolazione di Toro non ci sta e protesta, si fa sentire un colpo troppo duro per loro il provvedimento dei frati minori di Puglia e Molise di chiusura del convento di Santa Maria di Loreto. Secondo la cittadinanza questa iniziativa non tiene conto di più circostanze che i due anziani sacerdoti sono malati, che i toresi dal 1592 per quattro secoli hanno praticamente affidato lo storico convento ai frati, fornendo loro beni e aiuti di ogni tipo e ancora sono devotissimi a San Francesco. Il nostro convento è quello che ha dato maggior numero di vocazioni alla provincia monastica a Molise e Puglia, a cui appartiene, ma già nel 1700 il cardinale Orsini, sotto la cui giurisdizione ecclesiastica noi dipendevamo, divenuto poi Benedetto XIII, faceva di questo convento la sua deletta stanza per portarsi nei paesi limitrofi. Nel 1960 il Consiglio Comunale di Toro deliberò di cedere a titolo gratuito tutto il complesso con il giardino anche ai frati minori di Puglia e Molise, ma con una clausola che a questo punto appare ignorata. Il Comune di Toro ha deciso di donare la chiesa, il convento e il limitrofo giardino ai frati, a patte condizioni che continuassero nell'opera di culto, di beneficenza e soprattutto di istruzione e di educazione dei fangiulli di Toro e del circondare. Ebbè chiaramente se dopo 50 anni questa clausola viene a cadere con la chiusura del convento, la cittadinanza non ci sta e chiede di salvaguardare la propria storia, la propria devosione e in un certo qual modo anche i propri diritti. Per i toresi dunque il convento ha una grande valenza sociale e culturale. Il convento è stato nella storia ed è ancora oggi la gora culturale di Toro. Io sottolineo ancora oggi perché purtroppo anche per gli eventi legati all'evento sismico del 2002 Toro non ha spazi di aggregazione, quindi il convento è stata anche la casa culturale di noi giovani, di noi gruppi culturali, di circoli culturali. Senza contare, questo lo sa bene chi conosce storia e cultura della nostra terra, il grande patrimonio artistico del complesso come Giovanni Mascia che ha pubblicato il volume a freschi per il Papa, arte, fede e storia nel Chiostro e nel convento di Toro. Ci sono delle tele del 600, del 700 di grandi interesse, soprattutto artisti molisani, molti dei quali veramente rari, per esempio uno dei grandi maestri è Nicola Felice, un pittore di Campobasso del 600, che ha firmato una tela, il San Nicola di Bari. La redazione di Toro Web ha scritto ai frati minori di Puglia e Molise, alla fraternità del convento, al sindaco del paese e all'arcivesco Bregantini per salvaguardare il convento e quello che rappresenta, non solo per i toresi, è stata anche organizzata una raccolta firme. Siamo disposti a tutto, siamo disposti a interessare il vescovo, a interessare il provinciale, anche a fare degli autobus, insomma a riempirli di gente per andare al provinciale a Foggia perché Toro non ci sta a questa chiusura del convento.